Ciao amici di Youtube, qui con voi a Sciale Boom, oggi ragazzi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi, live reaction da casa Sciale Boom di Napoli Sassuono La prima al Maradona di questo nuovo campionato del Napoli, campioni d'Italia Sono carico In compagnia di mio fratello Cristian 2 a 1 Di mio padre, Chef Franco Ragazzi, siamo pronti per vedere questa partita Lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale Ma ancora meglio, forza Napoli sempre C'è la mamma mia, ma ok Che si mette fuori, vai Dai, dai, dai Iniziata, Napoli Sassuolo Avanti, voglio Avanti Porca miseria, vado Dai, c'è il segno a Spadori C'è il magnano Zubbata Puttana, troia E falla, si, bravo, arbitro Su, vittor Dai, ma bella Zubbata Giochiamo pure di qua Giochiamo pure di qua Non mi fa nervoso Dice Garcia Dice Garcia Dice Garcia Dai, 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 passi Bello Oh, mamma mia Ricordi Oh, Giochiamo Oh, Giochiamo Nel ricordi Dice E' ricordi Giochiamo 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 No Non vado È fatto Ma la verità Fai vedere Ma, no, no, mamma Ma, che niente di primo rigore Scusate Ma la verità E' il rigore Ci sta Dai 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 Ma non andare a quanto tu devi vedere Fischiare già su di cuore Giochione Dai Vai jeiiiiiii dai ancora E' sempre lui Vector permettolt story Ma questo è... Visto Rosyman! Ma è quando segna il Napoli che fa cosi... Salve un cervello... Salve un cervello! Andiamo! Andiamo! Vai! Rosyman! L'ha attirato benissimo! Rosyman! Benissimo l'ha attirato! Mi ho freddito! Bravo! Il portandello! Perché aveva il portandello! Vum! Sei forte! Ma sei il mio mascherino quando... Sei forte! Sei forte! Andiamo! 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 Vai giù! È in angolo! Sì! Ci fa l'arbitro! Ma già fa... Anzi ci fa l'arbitro! L'uoto non mi sta! Ma 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 è una cosa... Il giorno è normale! Pure a Frustino! Quando è entrato uno apre il cambiato gioco! C'è! Ma mi è giusto uno scorvice parda! L'uoto a partita! Ma c'è la spagetta... Dove? No! No! Oh! Fallo! Fallo! E fallo! 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 Ammonisce! Così meglio è il più forte Europa! Ah! È più forte! 3 opposto! Buono! 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 Mannaccia! Mamma mia! Vabbè! Bellissimo il cross! Altrettanto bello il colpo di testa di Angissà! Ah! Però tu sei trovato una gestione del piedi! No! Ma se stessi in mezzo qua! Tu mi dottassi dare! C'è scusa ma la cosa! O Paolo! Tutto bene! Oh! Ma ti chiedi di spuglia tu! Non voglio vedere neanche la partita! Voglio condizionare tu! Ah! Mister! Ah! Che c'è? Chef Fran! Non ce la faccio! Perché? È tutto anche la mia! Eh mamma mia! Non ce l'ho! Dopo il gol... C'è stato un po' di cavolo! Ah! Ragazzi! Finisce il primo tempo! Gol di Osimena su rigore 1 a 0 Napoli! Bene ma non benissimo! Bene ma non benissimo! Esatto! Ben detto da Cristian! Bene ma non benissimo! Perché abbiamo fatto il gol su rigore! Poi siamo un po' calati! Un po' la stanchezza! Un po' l'affaricamento! Il Sassuolo sta cercando di attaccare però! Amma mia! E' un secondo palone! Ci vediamo al secondo tempo ragazzi! E' iniziato il secondo tempo! De Napoli Sassuolo! Minimo minimo due palone! Duvio! Ma si mette! Ma si mette! Ma non! Che sui palone si mette! Ma dove fa gol! Che cazzo! Ah! Non può fumare sto gol! Mannaggia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Cavalca! Cavalca! Mi sa! Di gol! Tira tu! Tira tu! Ancissà! Minaccio! Rosso! Rosso! Rosso per Maximo Lopez! L'avrà inzuppato! Per forza! Soprlisi! Palone Sassuolo! La docciaaaaa! Lo so! T! Ma non! Guattro! Passa perfetta! Passa sono di! Spenda! T! Mannaggia! mannaggia sto facendo non lo facciamo caccio di due caccio di due calma si make you fort si make you fort si make you fort fammi vedere siiii alzato il braccio fammelo qua faccio urlare noi crediamo in te caccio di corso dai caccio di corso non mi è piaciuto ci sarò io con caccio brutto 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 i manager si chiamano la radora si eh va bene va bene dai 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 bravo caccio ma c'è chiarita pure no fai un ballerino brutto ma è piazzato questo pallone ma come si dirlo di tu ma come si sa ma allora questo oriorissimo è da rosyman e da rosyman ma sta buono con la schede eh 2 1 2 3 dai capitano un capitano c'è solo un capitano e andiamo c'è solo un capitano ciò capitano c'è un grande c'è un grande giocatore c'è un grande giocatore cazzo andai con la schede 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 guarda non mi puoi pigliare devo fare una caccia a Pina Monda non puoi pigliare che cerca la posizionale la prende annaccia così mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi mamma mia mamma mia dai 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 altri tre punti fondamentali ragazzi sempre che questo così meglio e vediamo che è ancora arrabbiato perchè vuole fare sempre di più gol di Victor Rosman gol del capitano un rigore sbagliato questo Napoli c'è partita di controllo vabbè però lo voglio vedere Napoli vediamo già sabato quello che succede contro la Lazio lasciate un bel like, un bel commenti, iscrivetevi al canale sempre e solo forza Napoli ma perchè si migliano forte ciao